Io ti ringrazio Giancarlo per la tua presenza, per la tua disponibilità e anche perché hai accettato veramente con tanto entusiasmo l'invito che ti è stato rivolto ad incontrarci. Sei stato molto prezioso anche per ragazzi della mia età che quell'esperienza della promozione, dei primi anni, ma forse di tutta la Serie A, l'abbiamo vissuta solo sugli almanacchi ma non abbiamo un ricordo reale e niente, volevo a nome del club debitarmi appunto per questa preziosa testimonianza che ci hai portato in questa serata di festa per noi e di festa per tutti nella quale ci siamo scambiati gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo, con l'anno prossimo, visto che la fraschetta riaprirà credo a maggio, giusto? Sì. Ok, l'impegno è quello di fare una giornata alla tua fraschetta che potrebbe essere anche quella della festa del nostro secondo compleanno e magari del sogno seriale, non si sa, potrebbe essere una bella cosa, io ci impegneremo e ci lavoreremo insieme per fare una giornata da te con tanto buon vino della tua cantina, tante risate e altre aneddoti, ok? Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.